Ieri è stato dato il via a questa tre giorni d'arte contemporanea nei luoghi storici della città. Un infinito di camice che hanno come tela le antiche mura medievali di Prato. Sono quelle di Karina Kaikkonen, artista finlandese. Poi c'è la scultura luminosa di Marco Lodola nella casa del mercante di Prato Marco Datini. E infine la grande sognatrice di Fabrizio Corneli, una proiezione sul muro della piazza di Santa Maria in Castello. Concludendo la notte magica con il fascio di luce di Carlo Bernardini che ha disegnato immagini sul cassero medievale e sul castello dell'imperatore.